danno all'aria così che si asciugano un po' per fare alla giuria oppure non c'entra proprio nulla, non c'entra niente non c'entra niente e nello stesso momento anche una mosfera per i clienti che bastano perché non tutte quante sono calciataia di solito la gente taglia così, due, tre, quattro, anche cinque fogli e poi alla fine tagliano qua, spagliatissimo perché deve lasciare un pezzo come si chiama, troppo duro qua, questo gli dà fastidio, invece il nostro ragazzo è quella che si presenta che si mangia tutti i fuori e anche il cuore perché è tagliato bene e cucinato in due colture di fritti in due scusa? in due colture, due volte fritti, la prima coltura a 20 minuti 100 gradi dopo la seconda coltura 200 gradi è troppo bollente l'olio, a testa giù un minuto poi dopo scola bene l'olio, si schiaccia bene con un po' di carta, un po' di sale, basta per sorvire tutto l'olio quella che abbiamo qua e poi... sì, è molto difficile farli... poi la terza cosa, questa più importante, se lei le guardi, nessuno ce l'ha il cacioca fresco perché questo periodo non c'ha nessuno, solo noi che abbiamo il cacioca fresco perché abbiamo il terreno nostro quando ci serve, le tagliano da vedere, tutto l'anno abbiamo il cacioca fresco guarda noi l'abbiamo mangiato l'altro giorno da non una petta non c'entra niente, si accorgerà di la scuola oh sì? non c'entra proprio niente oh sì? quindi da voi è meglio? le dirai lei, se alza lei dopo mi dici c'è ragione ok, va bene, ok, va bene allora, il signore americano vuole sapere perché per fare questo lavoro tu sei vestito in una perfezione che potresti andare in un matrimonio no perché io mi vesto così, non è il mio lavoro a fare il cacioca, c'è il maestro che viene la sera però quello un'ora, un'ora e mezza io recupero a lui, quando lui viene, mi alzo, gestisco la pronotazione e il chelto ah ho capito, ok, grazie mi è un piacere